So che rispetterà i tempi perché è uomo rigido e di misura il dottor Andrea Orbani direttore della programmazione del Ministero della Salute al quale io non faccio il preambolo, il punto che gli era stato affidato gli leggo il titolo di un'agenzia ANSA delle 14.51 frutto della conferenza stampa che evidentemente avete fatto malattie rare, associazioni, serve nuovo piano con risorse leggo anche le prime due righe serve un nuovo piano nazionale malattie rare che venga adeguatamente dotato di finanziamenti dedicati con particolare attenzione allo sviluppo delle figure professionali e delle competenze sulle nuove tecnologie e sulle infrastrutture dottor Urbani a che punto siamo? Come funziona? Sì, bella domanda allora avrebbe da rispondere che con i soldi sono buoni tutti no, adesso proviamo innanzitutto a spendere bene i soldi che abbiamo perché come dico sempre io in sanità di soldi ce ne sono anche troppi il problema è che non sempre risprendiamo con la dirigenza del buon padre di famiglia ho preso degli impegni con voi, impegni che abbiamo mantenuto perché il ministero della salute ha coordinato diciamo la ripartenza del tavolo del gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale delle malattie rare questo è un passaggio importante è un passaggio formale importante che secondo me dobbiamo alla luce dell'esperienza della vostra esperienza dell'esperienza del precedente piano di quel che abbiamo sentito adesso raccontarci da Domenica Taruscio in realtà mettere a terra con intelligenza e probabilmente se è vero che è stato fatto tanto se siamo qua è perché vogliamo fare qualcosa di più noi in questi mesi non abbiamo perso tempo abbiamo cominciato a fare una ricognizione delle attività e delle reti regionali delle malattie rare perché questo è un paese che anche se siamo in buona compagnia che è tanto bravo a scrivere progetti a dare indicazioni, obiettivi diciamo quanto ha poi delle difficoltà a metterla a terra e a trasformarla in servizi effettivi per i cittadini e per i pazienti noi vogliamo partire per il nuovo piano nazionale delle malattie rare avendo verificato la storia del precedente piano avendo verificato effettivamente le reti regionali se e come sono state applicate e i dati di attività dei centri che da un lato abbiamo indorsato per la precedente call per le reti europee dall'altro lato ci sono stati indicati dalle singole regioni come rete di riferimento delle malattie rare perché credo ed è il messaggio che vorrei far passare nel nuovo piano che comunque cercheremo di guidare in tal senso dobbiamo tutti quanti fare un passo indietro non dobbiamo aver bisogno di medaglie ma dobbiamo essere in grado di mettere a terra dei servizi un centro di riferimento non deve essere definito dalla presenza di un singolo professionista che ha una determinata esperienza ma un centro di riferimento è tale quando ha una capacità organizzativa un complesso organizzativo una rete di servizi che prescindano dalla persona che in quel momento è chiamata a svolgerli o che ricopre un determinato ruolo e questo farà la differenza nella valutazione dei nuovi endorsement per le successive call questo farà la differenza nella valutazione e validazione delle reti regionali per le malattie rare ci sono casi in cui regioni di piccole dimensioni non hanno i numeri per gestire o per vedere casistiche eppure si vogliono dotare di centri di riferimento o qualificarsi come centri di riferimento e tali non sono su questo noi saremo severissimi e probabilmente ci faremo qualche amico in meno però io sono un uomo di processo è di tutta evidenza che dobbiamo imparare a costruire dei percorsi che veramente e realmente evitino il trasferimento del paziente ma trasferiscono le informazioni quindi esistano collegamenti con centri spesso sovra regionali che siano in grado di gestire e di curare di indirizzare innanzitutto correttamente attraverso i nodi della rete del servizio sanitario nazionale il paziente o l'informazione relativa al paziente verso il centro realmente di riferimento e prenderlo in carico quindi dobbiamo prima fare ordine e pulizia a casa nostra e questa sarà la prima sfida che chiederò al gruppo di lavoro che dovrà elaborare il nuovo piano nazionale sulle malattie rare diversamente ci prendiamo in giro quindi dobbiamo e la presenza delle associazioni dei malati che abbiamo voluto fortemente che il ministro ha voluto ministro che vi saluta ma sta tornando dal Giappone perché avrebbe avuto piacere a partecipare anche lei la presenza delle associazioni dei pazienti che io ho preteso in ogni tavolo che ho aperto all'interno del ministero ha un senso se ci stimola in questa direzione aiutateci a non accettare i compromessi aiutateci a non abbassare il livello di quel che possiamo pretendere ne abbiamo le competenze abbiamo la capacità non è un problema di soldi se serviranno soldi ne metteremo i soldi la mia esperienza in sanità mi ha fatto comprendere che è più un problema di allocazione corretta delle risorse che non di aggiungere soldi su una barca bucata che comunque va sempre a fondo cominciamo a capire come spenderli questi soldi e ci sono margini importanti di riqualificazione della spesa se servono dei soldi i soldi si trovano decine o centinaia di milioni di euro in sanità sono minus sono piccole cifre quello che è molto più importante è la capacità di fare sistema di creare delle reti di organizzare dei servizi sul territorio che non siano frammentati in relazione all'esigenza molto spesso dell'ospedale della struttura del professionista perché non peggio dell'amministrazione locale ma siano focalizzati e centrati sulla persona sul paziente quindi dobbiamo le malattie rare sono il classico esempio di concentrazione di concentrazione delle attività e delle casistiche un concetto che è già passato con il DM70 noi abbiamo priorizzato tutta la rete ospedaliera fondamentalmente basandoci su casistiche su concentrazioni di casistiche le reti delle malattie rare devono essere l'esempio esponenziale di questa filosofia ecco io questo non l'ho visto quando ho fatto una ricognizione sulle reti regionali e allora non va bene ci dobbiamo tutti quanti spendere tempo energia e moneta e dobbiamo farlo in maniera utile intelligente chiederò questo al tavolo e spero che voi con me mi aiuterete a a far passare questo messaggio non saranno contenti tutti piccole regioni probabilmente dovranno rinunciare ad alcuni centri di riferimento ma creare collegamenti con centri di riferimento sovra regionali ma così probabilmente avrete il servizio che meritate e noi spenderemo utilmente i nostri soldi quindi inizia una bella avventura che faremo insieme e quando avremo fatto ordine a casa nostra ci potremo collegare forse meglio alle reti alle reti europee grazie dottor Urbani mi scusi solo un attimo perché siccome sono abituato diciamo ci siamo misurati in questi anni sul campo e so che quello che lei dice normalmente è quello che poi avviene ha dato ai pazienti ai familiari alle associazioni come dire se vogliamo una visione ottimissima una buona notizia non è un problema di risorse non se la sente di dare una data oppure è davvero troppo presto per dire la faremo entro il noi il 12 luglio iniziamo i lavori il tavolo io spero che la nuova rete noi abbiamo lavorato insieme all'istituto per la sanità la dottoressa da Ruscio arriveremo con molti dati a quel tavolo quindi non non è l'ennesimo tavolo che apriamo tanto per salutarci e raccontarci ci siamo preparati quindi il tempo dipenderà da un po' di variabili dai membri del tavolo ma insomma parliamo di settimane non parliamo di anni teoricamente abbiamo tutte le informazioni per poter prendere delle decisioni ringrazio moltissimo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti